Avvocata House! Ecco qua, buongiorno a tutti, piccolo sfogo, stamattina un po' incazzata, allora perché? Perché io credo che ho trovato, ho trovato, cioè io non riesco a leggere tutto quello che mi scrivete, però a sommi capi ho visto che ci sono molti geni, molte persone che forse studiano, studiano, sono molto beati loro che sono diciamo laureati in questa sindrome o in altre perché mi hanno detto che io non soffro di sindrome turretti, io a me, cioè da persona semplice mi hanno diagnosticato questa, ma se c'è un'altra malattia vediamo la prossima consulta, che cosa mi dicono? Chiaramente molti mi chiedono i certificati, ma io ripeto che non è questa la sede dove li devo, porco Dio, mostrare. Io sapevo che questa mia battaglia sarebbe stata molto difficile e lo è, lo è, me ne sto accorgendo più passa il tempo, porco la madonna di Cristo di merda. Perché? Perché allora vado a ballare che vado a ballare, faccio il karaoke e faccio il karaoke come ti diverti, ma scusate, secondo voi io dovrei stare dentro un letto a piangere? Io sono stata parecchie volte in ospedale psichiatrico, sono stata a porco Dio! Io sono stata ricoverata per 25-26 cartelle cliniche, non me nemmeno ricordo e mi dicevano tutti che io mi dovevo vestire, dovevo interagire con le persone, porco Dio la madonna di Cristo, non dovevo, dovevo far finta di non essere malata, cioè nel senso che la malattia io la dovevo allontanare dalla mia mente. Adesso io la voglio far conoscere ma essere degradata ed essere presa in giro non è bello perché c'è gente che ha detto che ci si deve sorridere, ci si deve ridere addirittura. Sapete ragazzi, sorridere e farsi due risate insieme è bello, ma sorridere è brutto perché fa parte di uno stato d'animo che non è felice, non è tranquillo e io nonostante tutto che ho tutte queste patologie sono tranquilla e non riesco a capire tutta questa cattiveria, non la riesco a capire, sinceramente è lontano da me. Poi il fatto che io mi devo fare audience e tutte queste cose qua, non ci manco come funziona, a me me li pubblicano i video, non lo so, io non so come funziona, a parte ma non è che devo stare qua a giustificarmi. Poi, porca d'aus, trick e tracche bomba a mano, noccioline e caramelle. Ecco, vedi io ho il quadro dell'incontro, l'incontro è una cosa molto bella, lo scontro non è bello. Poi, che volevo dire, che io sfido chiunque ad entrare in una farmacia, in un posto pubblico e a dire porco di capelli d'aus, porco di merda, porco di qua, porco di là e vedere come vi rispondono e come vi deridono e come ridono, non è una cosa bella ragazzi, credetemi, non è bello per niente, però io ho sempre portato avanti il mio nome in tutte le mie battaglie, anche se dicono che io sono una drogata, ma cosa ci si può aspettare una drogata, quella è una drogata, ma a parte potete cambiare pure canale, perché nessuno vi obbliga a vedermi. Questo vabbè è stato uno sfogo un po' non tanto simpatico, però a volte mi posso ingazzare pure, no? E quindi, tornando a bomba, che stavo dicendo? Che so, ah, e quando io ho lottato la toscodipendenza, io ho portato sempre il mio nome, ho messo sempre la mia faccia, anche nei libri che io ho scritto ho messo la mia faccia e ho detto cose che sono molto dolorose, quindi non è per farmi pubblicità ragazzi, perché io non è che mi sono fatti i soldi, regolibri, perché i libri me li sono gestiti, me li sono pubblicati da sola, quindi mi sono autopubblicata, quindi li ho pagati e il ritorno è stato pochissimo, quindi non è che io volevo solo portare la mia esperienza, perché dire, occhio ragazzi, porca odia la madonna di Cristo, tricca e tracca e bomba a mano, che se entrate in quell'infido mondo può succedere questo, questo e questo e quest'altro ancora, a buon indenditore si dice poche parole, non dette tante, perché sono una persona che mi piace colloquiare, però quando si viene attaccati non è mai bello, non è mai bello perché io vorrei che, l'hanno fatto in tanti che mi hanno chiamato, che hanno la sindrome di turrette, mi hanno chiesto dei consigli, più che consigli suggerimenti, perché questo è il vero scopo della mia divulgazione, quello di aiutare persone che non riescono nemmeno ad uscire di casa, ma se vengono a vedere questi commenti di una persona, sai che mi ha detto, mi ha detto, sapete che mi ha detto, mi ha detto Sabrina, grazie, che prima c'era Paul Stevenson, non mi ricordo mai come si chiama, quello americano, perché io sono un po' ignorante con i nomi inglesi, sono ignorante in tutto, ho studiato poco, però ho un grande cuore perché vorrei aiutare tutti, vorrei aiutare tutti perché so quando ci ho sofferto da bambina e so quando ci soffre ancora. Ecco, questo è tutto. Spero che non vi è annoiata, spero che recepite col cuore quello che vi dico, non tanto perché io dico sempre che la sindrome Turrette esiste quando incontra gli occhi del giudizio o qualsiasi altra malattia.